Bella a tutti raga, qua è AventoDino87 e oggi siamo su Colm Time Allora, Colm Time da un pochettino di tempo che lo volevo giocare E dovrebbe essere degli stessi creatori di AmiScare, se non mi sbaglio Allora L'ho visto giocato a un po' di gente, ma ho voluto effettivamente... Faccio un video per vedere se effettivamente ci si spaventa proprio, come dicono loro Cioè, rumore per le scale, non fateci caso Begin A posto Vivo in un piccolo cottage isolato dalla città Il silenzio è legge in questo posto La mia casa è quasi una fortezza, una prigione inespugnabile Mentre il chirping, non so cosa sia, il respiro del vento, sono la mia unica campagna Ah, ok, cosa degli uccellini Mi piace il suono del vento Ok Fammi correre Oh, un'arpa, un'arpa Che bello Fammi esplorare un po' qua in giro Ok, nulla La sensibilità del mouse è una cosa praticamente oscena, ragazzi Oddio Dottor Neil È uscito a To The Moon Il mio telefono funziona C'è qualcosa per farci? Beh Vorrei dire cose, però Eh, sarebbe dimensionale, signore Allora Gina Mmm Do you know Mmm Sa se l'uomo nel suite è sposato? Non ha una nel... Ah, parli di lui, ok Ehi, guardami a dove ti parlo I miei migliori complimenti è questa casa È davvero bella Ah, grazie amico Grazie Ok Ehi, ragazzino Tre punti Ehi, hai notato la casa in cucina? Forse poi... Poi... No Ah, ci vuoi provare con lei? Bene Sì E dov'è la cucina? Ah, ok, è qua Però io ricordo c'era anche... Eccolo Mi ricordavo c'era un altro personaggino Kenny Non voglio stare qui Mi manca la mamma Eh Mi spiace Kenny Dovrai farti squartare vivo Allora Sono felice Sono contento di esaltarti per la cena Se adesso adesso non dovresti essere qui Hai visto il bambino nella tua stanza? Dovresti fare il visito e vada a Sun? Ok, ok, ok Ok Eh Hai deciso di andare a prendere il coltello? Mi sembrava di sì Sì Ah, ora Ora, ok Adesso me lo fa prendere Ok Here's Johnny L'hai uccisa Ma va? Ma va che l'ho uccisa? Oh mio Dio L'hai colpita L'hai uccisa Aiutatemi L'hai uccisa L'hai uccisa con un coltello da cucina Fammi Oh Control to calm yourself E ora Se non ricordo male Dovevo staccare la corrente No? Se non ricordo male I tu interact Sì, vai di sotto E ora Inizieranno Le inculate Della madonna No? Salve Salve moglie Ora ce l'ho dietro Vero? Salve Vediamo se fa paura Come dicono Sì Sì Non fa paura Come dicono Rende sordi Come dicono Oh Salve Porca Pantana Non dovevi comparire Troia Yes Johnny Fanculo Io non ti infilzo Allora Fammi vedere un attimo Chi c'è in casa E chi no In cucina C'è soltanto lei Quello è un cestino? Ah È un cestino Bello Allora Fammi vedere Chi c'è Rimasto in casa Giustosi per Kenny Sì Ah Per sicuro Ah 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 Oh Oh di nuovo Fate ammazzare Troia Eh Ho ucciso Kenny E allora Che problema c'è? Tanto Non si avviva Ommunque Quando parlava Quindi Mi spiace E ti passo anche sopra Allora Fammi andare di sopra Giusto così Allora Porca putt Non potevo passarci Due secondi fa Mi suona Niente Ah forse sto qui È per Per non fare Bello che è il cane Forse per non fare rumore Così non mi sento No Boom Non ti avvicinare Sì invece che mi avvicino Oh però non corre il mio personaggino Dai dai Scappa morisci Carca Carca Troia Fan culo Fan culo Allora Fammi vedere se mi sono perso roba Ma non credo Io non ti tocco Non ti tocco Come la mettiamo ora? Allora Aspetta Facciamo un attimo il conteggio Ho fatto fuori Kenny E ho fatto fuori il tizio Bello quel quadro E' bellissimo Oh Ora faccio fuori Gina E oddio No corri Corri Fa fuori Gina Dai Il mio personaggino non corre Il mio personaggino non corre Ok allora Ci abbiamo Kenny Gina E Moriscighe Che solo chi ha giocato per Sparty potrà capirla L'arpa Beh Con che ragazzi Proprio il gusto dell'arte in questa casa eh Il gusto dell'arte Oddio Aspetta Aspetta un secondo Questo qui è tipo una citazione a Il gioco sarebbe uscito dopo Perché è uscita tipo di recente La workshop edition di I'm scared E credo che il mostro fosse simile a quello Cioè proprio in quel modo Grandi Grandi Il mio personaggino non corre Il culo Oh Allora adesso bisogna Ci manca gente fuori Giusto? Abbiamo preso Kenny Moriscighe Il Il tizio Il tizio elegante No Abbiamo preso Kenny Moriscighe E Gina Fammi vedere se c'è qualcun altro No Kenny è qui Mmm Altrimenti ragazzi mi sa che uscirò eh Salve Ok no Qui non c'è nessuno Qui in camera da letto Nessuno Allora sono usciti gli altri Che rimangono Quindi a ricordi logica Fuori dovrebbero esserci Moriscighe No Dovrebbe Sì No aspetta Ci dovrebbe essere il dottor Neil E il ragazzino Sì giusto il ragazzino Era scappato Forse qui dentro È nascosto qui No Allora qui non c'è nessuno Qui dietro No Qui nessuno Mmm La vedo un po' dura eh La vedo un pochettino dura Nel parco giochi qualcuno c'è Il campo da tennis Mmm Posso salire sullo scivolo No Avrei voluto salire sullo scivolo Ok no Era un glitch grafico Pensavo fosse qualcuno Invece no Mmm I su Allora I suoni random Sono le osi Adi più di tutti Ah Allora qui non c'è Allora aspetta Dove sono i due tipi rimanenti Oh per un attimo Mi ha laggato tutto C'è stato un minimo Mento di lag Qui posso Andarmene via A fare Fuck the system No Sarebbe troppo bello Se potessi farlo Mmm Attenzione Dottor Neil No non si giri da questa parte Dottore non si giri di qua Dottore deve ucciderla Lo sa? Ok aspetta Proviamo ad andare No 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 Cazzo Cazzo E vabbè È troppo veloce Grande tipa Per avermelo fatto scappare Grazie Grazie Te lo meriti Questa dovrebbe essere una piscina per gli uccelli Bello L'HD L'HD Allora Allora Aspetta Quello lì era il dottor Neil Allora il lato figliolo dove l'è? Dov'è il figliolo? Quell'altro Fermo 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 Silenzio Silenzio No l'ho mancato Come ho fatto a mancarlo? Ce l'avevo lì Ce l'avevo lì Come ho fatto a mancarlo? Ok aspetta A che parte andavo? Forse qua nell'angolino E si è inculato da solo? Ok no Deve essere rientrato in casa Mi sa O forse nello sgabuzzino No No Boh Do ancora una chiave Veloce in giardino Se non c'è nessuno Boh Rientrerò Ok Se mai non c'è nessuno Mi sa che sono rientrato in casa Ok allora aspetta Se loro sono qui dentro La cosa non deve essere Tanto complicata no? Allora Qui nessuno Anzi Scusa Vado nei passi Per dargli più tensione Oh Dottor Neil Lo sa di essere fottuto Vero? Ma cosa? No Non è vero L'ho toccato Allora I personaggi di sto gioco Sono buggati Non dirmi che è uscito Ti prego Se è uscito Io mi sparo Non ho voglia di controllare Tutti il giardino Forse è qui Che poi non mi ricordo I personaggi Potevano anche scendere Nel seminterrato Oppure no Ok nessuno Mi sembrava di ridare Potessero Ok no A quanto pare Non possono scendere Nel seminterrato Allora Il ragazzino Mi sa che è andato su A questo punto Perché se no Allora Non scappi Non scappi Un altro Un altro Sì Sì Corri Corri Tanto non mi scappi Non mi scappi Vai Vieni qui Vieni qui Vieni qui Ti sembra si intrapa da solo Ho visto la tipa Ma non me ne frega niente Sì Mi manca soltanto Dottor Neil Mi manca solo lui E ho paura Che Dottor Neil Sia andato fuori E questo vuol dire Ci metterò una vita A cercarlo Forse No ok Non è in bagno Dottor Neil Venga fuori Voglio giocare con lei Cioè Ok Pensavo fosse dentro il cesso Pensavo fosse lì dentro Dottor Neil Oh cazzo Dottor Neil è fuori No Fammi non trovare Nella cucina Magari si è nascosto lì Ora dovrò cercarlo secoli Dovrò passare secoli a cercarlo Dottor Neil Dottor Neil venga fuori Non ho tutto il giorno Eccolo Dottor Neil Dottor Neil Dottor Neil Smette di guardarmi No 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 Non ti girare Sì 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 Non me ne frega Non me ne frega Sei morto Sei morto Sì Ce l'ho fatta era la battusina era la battusina Adriano Tuminelli grazie Ivan Zanotti grazie Virgil Bellini e Gianmarco Terenzi grazie Turn off the lights sono di mattina mi spiace è rimasto così? va bene si gli sparacchi te li fa prendere te li fa prendere ok qui è 20.87 questa era Colm Time direi che potete lasciare mi piace un commento e iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video raga anzi no ho fatto male il saluto devo migliorarlo ragazzi devo migliorarlo